Sanità si va verso l'accordo sulle risorse aggiuntive regionali e quanto emerso al termine di due tavoli tra l'assessore regionale Riccardi e i sindacati del comparto sanitario. Il vice governatore ha assicurato le rappresentanze sindacali sul mantenimento dei livelli dell'ERAR, 31 milioni di euro di incentivi come per il 2018, da erogare con rinnovate modalità in accordo con il nuovo contratto nazionale del comparto. L'impianto contrattuale è cambiato, ha precisato Riccardi, e fermo restando che non ci saranno variazioni sulle buste paga dei dipendenti, troveremo un accordo tecnico per mantenere gli attuali livelli retributivi facendo in modo che le risorse possano essere distribuite con nuovi criteri in relazione agli obiettivi raggiunti. Positiva la conferma, ha commentato il segretario della FIALS Fabio Potocznik. Le nostre preoccupazioni riguardano ora tempi e contenuti dell'accordo. Le maggiorazioni in busta paga sono infatti garantite solo fino alla mensilità di febbraio. La prossima settimana la Regione, con i commissari dirigenti delle aziende, proporrà alle organizzazioni sindacali firmatarie una bozza di schema contrattuale e dalla settimana successiva verrà avviato il percorso di contrattazione per giungere a un accordo entro il mese di marzo. Tempi un po' più ampi per l'accordo sulle risorse aggiuntive regionali per il personale extracomparto, che verrà avviato nelle prossime settimane. Allo stesso modo Riccardi ha escluso blocchi delle assunzioni e ha rinnovato l'impegno della Regione a sostenere percorsi di specializzazione universitaria in funzione della programmazione sanitaria regionale.